super green pass da oggi obbligatorio nel personale scolastico altro picco di contagi marche a rischio zona gialla traffico di droga tra italia hong kong arresti anche a pesaro vl banca di pesaro rinnovata la partnership benvenuti al nostro telegiornale oggi è il mercoledì 15 dicembre una data che contrassegna un altro snodo nella lotta alla pandemia perché da questa mattina è entrato in vigore l'obbligo di super green pass per docenti e personale scolastico categorie che per lavorare da oggi non possono più accontentarsi quindi di un tampone negativo ma devono essere obbligatoriamente vaccinate nel nostro primo servizio di questa sera vediamo e come è andata questa prima giornata in alcuni istituti scolastici di pesaro a nove giorni dall'entrata in vigore delle super green pass oggi 15 dicembre la certificazione verde rafforzata eppure diventata obbligatoria per lavorare in alcuni settori oltre ai sanitari da oggi sono infatti obbligati a vaccinarsi i docenti il personale scolastico e le forze dell'ordine va da sé che quella odierna è stata una mattinata intensa per le scuole pesaresi con i dirigenti scolastici alle prese con le notifiche del nuovo vincolo al personale ancora riluttante alla vaccinazione docenti novax che da oggi hanno cinque giorni per mettersi in regola altrimenti non possono lavorare in tutte le marche si contano ancora ottocento operatori scolastici che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino su 34 mila lavoratori complessivi ogni scuola e dunque alle prese con i casi di chi non è in regola e con eventuali sostituzioni abbiamo effettuato il controllo stamattina sulla app del ministero abbiamo verificato la situazione abbiamo qualche caso sto consegnando le notifiche che i docenti che non sono in regola come fatto vaccinare devono ricevere non sono tanti perché alcuni di questi sono in aspettativa per maternità per altre situazioni quindi non ricadono nella casistica adesso cerchiamo alcuni so che alcuni me l'hanno detto insomma ho verificato che si sono vaccinati si stanno vaccinando quindi in qualche effetto l'ha avuto cioè qualche docente ha provveduto insomma in questi giorni o lo sta facendo proprio alcuni ieri addirittura e quindi l'effetto sotto questo punto di vista c'è stato rimangono alcuni casi di persone che non sono a posto e quindi hanno cinque giorni a partire dalla mia comunicazione per mandarmi la loro situazione vaccinale e hanno venti giorni per prenotarci dopodiché se non ho tempo saranno sospesi dal lavoro senza ricevere il stipendio. A questo punto è una scelta loro e vedremo come comportarci. I numeri non sono altissimi perché è una parte residuale però c'è insomma. Obbligo di Super Green Pass per lavorare alle superiori idem per la scuola primaria e secondaria. Beh la situazione diciamo che è abbastanza tranquilla io ho come personale circa 170 unità tra personale docente e ATA e la percentuale di docenti non vaccinate è molto bassa o insomma meno di poco più di 5 o 6 persone che non hanno regolarizzato la loro posizione e alcune di queste lo faranno a breve e altre sono in aspettativa quindi diciamo che insomma ero già informata un po' di quella che sarebbe stata la situazione allo stato odierno. Si spera che il nuovo obbligo argini il contagio in un ambito scolastico marchigiano dove attualmente si contano circa 270 classi in quarantena di cui 60 in provincia di Pesaro Urbino. Vi abbiamo parlato ieri del via ai vaccini per i bambini fra i 5 e 11 anni a partire da domani. Oggi sono cominciate intanto le prenotazioni e secondo l'aggiornamento delle 16 e 30 sarebbero 1072 le prime prenotazioni arrivate nelle Marche per la fascia pediatrica. Nonostante si stia accelerando sulla somministrazione dei vaccini continuano a crescere i contagi che mettono a serio rischio il mantenimento della regione Marche in zona bianca nel prossimo mese di gennaio. Oggi un nuovo boom di casi nella regione con 674 contagi ovvero una cifra che non si rilevava da inizio 2021. Preoccupante la situazione nella provincia di Ancona dove oggi si sono concentrati 283 casi 100 invece quelli in provincia di Pesaro Urbino. L'incidenza da contagio è salita 226 casi settimanali ogni 100 mila abitanti e continuano a crescere anche i ricoveri ben 14 in più nelle Marche rispetto a ieri. Si contano pure tre decessi un 95enne di San Lorenzo in campo, una donna di 83 anni di Osimo e una di 77 di Fermo. Ed ora passiamo alla cronaca perché i carabinieri del comando di Milano hanno arrestato 10 indagati responsabili a vario titolo di traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. Provvedimenti che sono stati eseguiti anche nella provincia di Pesaro Urbino oltre che in quelle di Milano, Bergamo, Pavia, Ascoli Piceno, Brindisi e Bari. I militari hanno sequestrato ben 720 chili di stupefacenti quali marijuana, hashish, cocaina e anfetamine. A finire in manette i componenti di una complessa e ramificata organizzazione di spaccio capace di trasferire il denaro contante in bagagli da stiva fino a Hong Kong per poi essere ritirati in Marocco e riciclati in attività commerciali leciti. Le indagini stimano che fra l'Italia e Hong Kong siano transitati la bellezza di 200 milioni di euro. Le telecamere di Rossini TV si sono accese oggi a Senigallia in occasione dell'assemblea di fine anno di Inside Marche Live, associazione che comprende 28 tour operator delle marche. Un'assemblea che si è tenuta alla presenza dei vertici nazionali di Asso Viaggi con i quali si è analizzata la situazione di un settore, quello del turismo organizzato, fra i più colpiti della pandemia. Vediamo quindi il servizio di Marco Cadeddu. Noi quello che abbiamo fatto in questo anno è stato cercare di tutelare le nostre imprese e anche cercare di rilanciare la promozione e l'accoglienza del nostro territorio facendo squadra, cercando di costruire una rete, soprattutto appunto di operatori che conoscono questa nostra terra per cercare di promuovere di più e meglio la regione Marche. Adesso noi facciamo delle richieste naturalmente alle istituzioni, alla regione in particolare con cui ci siamo sempre relazionati. Noi abbiamo bisogno di un sostegno che consenta alle imprese di passare l'inverno e di non trovarsi in difficoltà con tanti posti di lavoro che comunque sono a rischio, perché comunque il settore del turismo e dell'incoming è stato quello più colpito della pandemia, ancora non è ripartito, sono due anni di difficoltà, quindi abbiamo bisogno di sostegni veri per consentire di poter proseguire il nostro lavoro. E naturalmente un'altra cosa che chiediamo è quello di lavorare insieme, condividere le scelte, i progetti e le azioni di promozione e di promo commercializzazione che naturalmente dovremo andare a fare. In ultima istanza la nuova agenzia sul turismo e l'internazionalizzazione che appunto noi abbiamo sostenuto e quindi siamo favorevoli di questa misura che ha preso la regione, chiediamo naturalmente subito un confronto per poter confrontarci con questo strumento affinché sia agile e ovviamente non sia concorrente con le nostre imprese, ma che sia anzi di aiuto rispetto agli operatori dell'incoming. Gianni Rebecchi, presidente nazionale Assoviaggi, ospite oggi a Senigallia all'assemblea di fine anno dell'associazione Inside Marche Live, poco dopo un intervento del ministro Speranza che impone il tampone a tutti coloro che entrano in Italia dalla comunità europea. Io penso che stiamo infrangendo delle regole europee, il lavoro di nove mesi che abbiamo fatto come associazioni anche per costruire il Green Pass a livello europeo, quindi trovare delle norme comuni per potersi muovere e viaggiare all'interno dell'Europa almeno, sono state sgretolate nell'arco di una notte, quindi questo è un tema sul quale prendiamo pesante posizione perché chiediamo di ripristinare assolutamente la libera circolazione, almeno in Europa, delle persone che possiedono un Green Pass e che quindi assolvono tutti i protocolli sanitari che sono stati richiesti. Ed ora parliamo di alcuni spettacoli e appuntamenti culturali. Martedì 21 dicembre il Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro ospiterà il concerto di Natale, promosso dalla Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro. Ad esibirsi sarà la filarmonica Rossini diretta dal maestro Michele Antonelli in un programma di esibizioni che spazierà Fragluc, Bizet, Mascagni, Morricone e Beethoven. Il concerto sarà gratuito ma con prenotazione entro il 19 dicembre attraverso il sito del Comune di Pesaro. Si avvia alla conclusione la stagione di prosa 2021 del Teatro Sperimentale di Pesaro. L'ultimo appuntamento previsto da domani 16 dicembre fino a domenica 19 è con un grande classico come 900 di Alessandro Baricco nella magistrale interpretazione di Eugenio Allegri diretto da Gabriele Vacis. Gli spettacoli saranno giovedì e venerdì alle ore 21, sabato alle 19 e domenica alle ore 17. Ancora teatro ed è una notizia importante per Gabice Mare perché dopo due anni di chiusura dei palcoscenici a causa della pandemia riapre il Cinemateatro Astra. Lo farà lunedì 20 dicembre alle ore 21 quando andrà in scena Uno, Nessuno, Centomila. Uno dei più celebri romanzi di Luigi Pirandello sarà magistralmente interpretato da Enrico Loverso nell'adattamento proposto e diretto da Alessandra Pizzi che ne è anche la produttrice. Continuiamo a parlare di iniziative e di eventi perché a partire da questo sabato il comune di Colli al Metauro ospiterà il festival Macchie e Inchiostri dedicato al giornalismo d'inchiesta e inviati di guerra. Quarta edizione di una rassegna che si snoderà in dieci appuntamenti fino al mese di febbraio. Vediamo quindi a tal proposito le interviste di Paolo Pagnini. Dopo la sosta di un anno per motivi legati alla pandemia eccoci di nuovo qui a presentare la quarta edizione di Macchie e Inchiostri, un festival dedicato al giornalismo d'inchiesta e di inviati di guerra. Non sono io a dirlo ma sono i giornalisti presenti invitati qui nel programma che mi dicono che un festival interamente dedicato al giornalismo d'inchiesta inviati di guerra, quindi giornalisti d'assalto, non ne hanno visti altri, forse l'unico in Italia e quindi per me in qualità di direttore artistico è anche una punta di orgoglio. E come si svilupperà? Attraverso quante date e quali date? Allora il festival in totale prevede otto date. Inizia sabato 18 dicembre al Museo delle Scienze del Bali. Sono particolarmente felice che venga fatta accoglie al Metauro anche perché a parte la vicinanza e la possibilità di partecipare in luoghi fantastici che sono dalla Villa del Bali a Montemaggiore eccetera sono delle tematiche che mi riportano indietro di molti anni nel tempo. Per esempio Sarajevo, Alex Langer che è venuto molte volte a Isola del Piano che era l'ambasciatore per l'Unione Europea a Sarajevo quanto Sarajevo era sotto assedio. Io ritengo che questa rassegna che noi portiamo in atto con questa quarta edizione dia proprio valore ai nostri territori mettendo in luce, dando visibilità, accendendo i riflettori su alcuni argomenti che sicuramente portano in luce quella che è la verità di alcune informazioni. Verità magari scomode, difficili non solo da raccontare perché non sono presenti nei canali di informazione più diffusi ma sono proprio difficili da cogliere, da andare a intercettare. E solo grazie alla determinazione, alla capabilità e anche al coraggio di questi giornalisti coraggio perché spesso per andare sull'informazione mettono a repentaglio proprio la propria vita proprio per essere testimoni visivi, testimoni oculari sulla propria pelle di quelle che sono le notizie che ci danno poi la possibilità a noi di ascoltare e di poter recepire. In questi giorni sui giornali si legge anche oggi stesso, si legge di quanto bisogno, di quante necessità ci sia di cultura per la crescita dei nostri territori, per valorizzare i nostri territori. E anche questa sera spazio ai libri. Il Teatro Sperimentale di Pesaro ha infatti ospitato la prima presentazione del volume in cui si incontrano le storie di due marchigiani d'eccellenza. Da una parte lo chef stellato Mauro Uliassi, dall'altra l'artista contemporaneo Giovanni Gaggia. Il libro racconta di un incontro e di un dialogo. Sono 21 ricette e 21 opere d'arte che raccontano la creatività mia e di Mauro Uliassi. Quindi come il nostro territorio, le marchi hanno influenzato il suo fare e del mio operare. È evidente come la nostra terra ha modificato la nostra creatività ed è centrale la nostra scelta di vita. Mauro ha deciso di vivere a Senigaglia e io ho deciso di vivere a Pergola. In questo caso, come sottolinea in maniera nitida chi apre, Massimiliano Tonelli, il libro, la provincia che non diviene più provincia, ma in questo caso è centro, centro della cucina e centro dell'arte, diventano capitali e luoghi propulsori di quella che è la creatività in assoluto. Il libro è un cammino molto forte, un cammino molto intenso, che racconta di un dialogo, un dialogo lungo appunto tre anni, supera la pandemia per arrivare ad oggi. Questa è la prima presentazione che facciamo. Era, come dire, importante farla nelle Marche e per noi è un onore essere qui, perché in qualche modo, come dire, Pesaro rappresenta la cultura del nostro territorio, tra Arossini e la pescheria, quindi non ci poteva essere luogo migliore. Diciamo che siamo molto felici e molto onorati. È un regalo essere qui ed è un regalo il libro. Il libro è edito da Mare Territore ed è davvero un racconto sulla linea del mare. Si vede anche dalla costina dal blu che emerge. La grafica racconta davvero tutto quello che è il nostro punto di partenza per poi allungarsi fino al cielo è un gioco che si sviluppa tra il colore del mare e il colore del cielo, dove in mezzo ci sta l'opera d'arte. È stata una gran bella esperienza. Già in passato avevo collaborato in altre situazioni d'arte, con la musica e anche di arte contemporanea. E creare un libro insieme a Giovanni è stata una bellissima esperienza perché marchigiano come me, lui è un marchigiano di terra, noi siamo marchigiani di mare e anche se siamo marchigiani di mare, se viviamo sulla costa, abbiamo delle profondi radici contadine. Quindi è stato facile dialogare e creare questo libro dove le nostre ricette in qualche modo potevano dialogare e conversare con l'arte di Giovanni. È davvero un momento positivo per la VL dopo tre vittorie consecutive. Ora arriva anche il rinnovo della partnership con uno storico sponsor come la Banca di Pesaro. È un conubio che sta andando avanti, ma vorrei dire una cosa, al di là della semplice e pura sponsorizzazione che loro stanno insieme a noi da diversi anni, la cosa più importante, la più piacevole, la più bella è che esiste un rapporto veramente di fiducia tra le due parti, con le persone, Paolo e Massimo, dove sono sempre disposti, sempre disponibili, sanno intervenire nel momento giusto, nel momento di bisogno. Insomma, quindi è un rapporto veramente importante che la VL e la HUMBC ci apprescinde, ripeto, da una, come dire, non vorrei dire banale, ma da un rapporto che poi magari dietro appunto è molto più complesso e importante di quello che può sembrare. Seminare e continuare in quello che facciamo nelle nostre attività, quindi la sponsorizzazione deriva da tempi molto indietro, quindi noi ogni anno abbiamo rinnovato e negli ultimi due anni abbiamo incrementato notevolmente la sponsorizzazione, anche se non facciamo più parte del consorzio per una scelta fatta a livello strategico negli anni passati, però comunque siamo sempre stati presenti e a maggior ragione confermiamo anche quest'anno la sponsorizzazione come abbiamo fatto per tante altre iniziative. La banca sta continuando a sostenere tutte le attività, soprattutto un occhio di riguardo nel settore giovanile, però non si può dimenticare la prima squadra che è il basket, che merita in questo particolare momento forse anche un po' di brio e un po' di spensieratezza e ritornare al palazzo veramente ci ha fatto un grande piacere rivedere, anche se ancora veramente siamo al 50% o poco più o poco meno, però la gente deve ricominciare a vivere in maniera un pochino più serena e questo forse è quel Natale che arriva e il prossimo anno, i vaccini e tutte le cose che stanno facendo anche a livello governativo sicuramente avremo un 2022 diverso rispetto agli ultimi due anni che ci ha visto impegnati a fronteggiare una situazione che si dice straordinaria e poco a definire la straordinaria. E dal basket passiamo alla pallavolo, serata di auguri natalizi per la Megabox Vallefoglia. Ieri al pala Dionigi di Montecchio dove nell'occasione è stato presentato il calendario 2022 della squadra bianco-verde. Siamo qui con coach Buonafede, un anno importante per la Megabox Vallefoglia, oggi viene presentato il calendario 2022 un anno fortunato, un anno ricco di successi. Ci può raccontare questo anno dal suo punto di vista? È stato inversamente proporzionale alla realtà del mondo, abbiamo fatto questa escalation nel 2021 veramente fantastico un sogno la promozione in A1, un risultato assolutamente inaspettato. È chiaro che ci sono dei periodi belli altrimeno, abbiamo un po' pagato quest'ultimo periodo di Serie A1 prima con una squadra incompleta, poi perdendo il palleggiatore, però nonostante questo la classifica in questo momento ci dice che saremmo salvi se il campionato finisse adesso e quindi dobbiamo gioire perché nonostante tutte queste sfortune è vero che abbiamo lasciato qualche punto per strada ma potevamo anche fare peggio. Sicuramente ripetere il 2021 nella prima fase sarà impossibile, però penso che a fine stagione 2021-2022 saremo ben contenti di quello che stiamo facendo. Ora secondo me non siamo nel giusto posto per gli sforzi che abbiamo fatto, dobbiamo rivedere un po' l'assetto organico della squadra per far sì che nella seconda parte raggiungiamo la salvezza con ampio margine. A parte queste piccole problematiche comunque è sempre una grande soddisfazione partecipare al massimo campionato di volley non è che tutti se lo possono permettere, noi grazie al cielo ci siamo riusciti con sforzi e quindi siamo contenti, siamo contenti. Si chiude il 2021, viene presentato oggi il calendario per il 2022, si chiude quindi un anno importante per la Megabox e per il suo debutto in Serie A. È stato un inizio con tanti cambiamenti, siamo partite senza un vero opposto, poi è arrivato e ha dato un contributo, poi purtroppo la prima palleggiatrice ha avuto un problema e quindi adesso tocca a me prendere il suo ruolo e quindi è un continuo processo di conoscenza tra di noi per amalgamarci meglio. Abbiamo ancora due partite nel 2021 e con queste due partite finisce il girone di andata e quindi cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo noi sia di carattere e di voglia di far bene e per prenderci qualche punticino per poi iniziare un girone di ritorno più aguerite, più consapevoli delle nostre qualità e per riuscire magari appunto a vincere quelle partite importanti che all'andata non siamo riusciti a fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.